ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato a voi stessi voi stessi che diventate protagonisti in quanto mandate i vostri simpatici video che riprendono i vostri orologi la collezione di orologi diciamo così non serve che la riprendiate tutta se avete 100 orologi non fate 100 orologi perché altrimenti quando si finisce più se avete tantissimi orologi ne scegliete qualcuno e dite lo spiegate su questa è una parte dei miei orologi e voglio mostrarli questi poi la prossima volta mostrerò gli altri altrimenti un video lunghissimo non ci sta ecco a proposito 7 minuti 8 9 senza esagerare no che sia spigliato conciso veloce simpatico come partecipare lo sapete vedete qua sovrappressione come si fa e ora non mi resta quindi che a ricordarvi instagram il mio account instagram contatori del tempo cercate contatori del tempo o anche davide cecchini e viene fuori il mio account mi seguite lì così vedete tutti gli orologi in anteprima quelli che indosso durante il giorno quelli che pubblicherò nei video insomma ci sono tante cosine interessanti possibilmente interessanti ora mi resta che mostrarvi l'orologio del giorno che è questo simpatico viller vetta da 39 millimetri sul quale ho montato questo cinturino nato realizzato da jonku straps un cinturino nato in pelle che io utilizzo come single pass cioè passa una volta sola è praticamente una striscia di pelle che passa dentro le anse e da 18 e da 20 su un'anse da 22 qualcuno ha chiesto ma non potrebbe accadere che essendoci questo lasco trascina l'ansala fa staccare si potrebbe anche succedere una delle cose negative del mettere un cinturino più piccolo della spring bar no la potrebbe per attrito muoverla trascinarla e farla sganciare ma essendo un nato rimane attaccato al polso quindi ho risolto l'ho messo così perché sfina un po di più mi piace semplicemente così io faccio un po come mi pare a me è capito adesso passiamo al primo video indice infuocato e fuoco alle polveri buongiorno davide giorno sempre tommaso da brescia colui il quale revisione orologi tanto per capirci volevo mostrarti rapidamente gli ultimi app i revisioni ma questo un orologio che ti ho già mostrato un 3 sa che ho scoperto nella revisione che è più di qualità di quanto pensassi con cassa in acciaio e un movimento decente tiene benissimo il tempo e ho fatto fare un cinturino band su misura per il mio polso per questa cassa che si dice la mamma mi ricordo per valorizzarlo un po perché comunque era un taglia molto 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 piccola comunque il cinturino è un 18 insomma è fatto anche un taglio al al cinturino proprio per infilarlo dentro alle ansie strette dell'orologio non è mica che sia un gran bel lavoro quello che vedono i miei occhi cioè poi è veramente troppo 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 cinturino attorno ad un orologio piccolo ok il bund se secondo me si pronuncia bund perché tedesco non band il bund serve a rendere un pochino più presente al polso l'orologio no ok ci sta dico visivamente parlando perché poi il suo scopo è quello di proteggere il polso per il freddo bla 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 però in questo caso è veramente esagerato è veramente sproporzionato secondo me questo questo tutto questo cuoio pelle intorno a questo orologino così è a parer mio per confinare da 16 quindi lo posso utilizzare anche con orologi vintage anni 70 che hanno 100 linee da 18 come il mio bullet per dare un tocco diciamo c'era una volta ad hollywood e sono molto contento perché come dice tu molte volte basta cambiare un particolare e si ritorna apprezzare un orologio che magari non si utilizzava mai un altro acchiappo è stato questo che bello tesso sidral è un orologio molto particolare perché era diciamo l'antenato secondo me degli monoblocco un orologio pop per giovani venduto in maniera molto simpatica con scatole colorate e in varie versioni c'era quello la versione ufo c'era la versione questa qui braccialata integrata e niente l'ho preso l'ho revisionato cambiato la corona perché era rotta e sono molto contento del risultato cosa particolare visto che ogni giorno impariamo qualcosa questo orologio ha una lunetta che si integra col bracciale e la cassa è in vetro resina quindi per revisionarlo cosa molto particolare bisogna togliere la lunetta quindi bracciale di conseguenza e rimane la cassa come si fa a togliere il vetro bisogna togliere la corona e soffiare dentro per far entrare la pressione e far uscire il vetro in questo modo dopo si può estrarre il movimento revisionarlo quindi diciamo che inusuale per i nostri concetti di revisione dove apriamo un fondello svitiamo il fondello a vite e non c'è problema inizialmente avevo un quadrante bianco ho trovato questo nero che vira se si vede al marroncino molto molto carino poi ultimo chiappo sono stato molto fortunato ho trovato questo orologio a un prezzo stracciato da sistemare ed è un errado golden horse 1960 aveva un indice mancante aurea 10 sono riuscito a ricrearlo con l'ausilio di una barra da un millimetro in acceio inox levigata con delicatezza e ho fatto un buon risultato nonostante ovviamente da vicino si possa notare la differenza ma dell'insieme sono molto contento revisionato bellissimo movimento veramente avanti per l'epoca con scatto rapido e immediato della data un po come il rolex diciamo che si può considerare per quei tempi un rolex anni 60 come qualità pensate e sono molto contento perché è veramente bello da indossare elegante 35 mm ho aggiunto questo cinturino verde oliva che lo valorizza secondo me ancora di più fa un po l'opposto del rosso del dell'ancora nel ruolo dell'ancora perché come abbiamo detto più volte l'ancora è sul rubino e può ruotare cosa molto simpatica come dici tu infine ma me secondo me quel cinturino lì verde così scamosciato non è che ci sta quel gran che bene io immagino con un bel cinturino nero testa di moro marrone veramente caldo il verde lì è un po freddo secondo me fine cercavo un orologio di un po di valore da portare nelle grandi occasioni guardavo il reduce guardavo ovviamente cercavo un automatico guardavo un rolex date mi sono imbattuto in questo bellissimo simaster 36 mm referenza 2 2 5 3 80 un po più rara perché ha questo quadrante questo dial blu elettrico bellissimo anni 2000 quindi non è più trizio in 2001 2002 se non mi sbaglio condizioni eccellente pari al nuovo e sono molto contento calibro ovviamente non ci metto le mani io questo per ora però è bello di indossare perché una taglia ridotta quindi è elegante al polso però allo stesso tempo e presenta i tecnicismi di un diver e quindi lo rende diciamo un ibrido bello vedere quello che cercavo luminescenza ottima come si può già vedere qua comincia già a emanare luce e sono veramente contento poi la ghiera la ghiera lucida lo rende veramente un misto tra eleganza e sportività è brutto da dire per te però non cercavo il coassiale perché se un giorno volessi metterci le mani non voglio non voglio imbattermi in problemi questo sicuramente fa più al caso mio e in più amo il retro amo il vintage quindi questo qui è una via di mezzo tra un vintage e un moderno detto ciò ti ringrazio grazie a te spero di poterti mandare altri altri acquisti in maniera veloce so che adesso i tempi di attesa dei video sono diventati lunghi quindi spero riuscirai a mandarlo va bene grazie mille e buona giornata a te a te love 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 simpatico l'amico qua che si revisiona gli orologi da solo ci mette le mani se li sistema sa riconoscere calibri di qualità da quelli non di qualità e l'ultimo discorso l'ultimo concetto che ha espresso mette in luce il fatto molti di noi vogliono il calibro in house il calibro esclusivo no poi dopo però quando c'è da ripararlo gli orologi ai normali non ce le mettono le mani sul coassiale non tendono ad evitarlo deve mandare in casa madre oppure se c'è qualche orologia insomma la competenza dell'orologiaio deve essere elevata per poter revisionare un coassiale diciamo così non ce le mettono le mani tutte no come agli altri orologi che sono che hanno i calibri in house e che non è mai capitato a un orologio a un orologiaio di paese gli capitano gli orologi sempre quelli dei mercatini con quei calibri gli stessi calibri li sa memoria li apre li chiude li revisiona il bra 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 se gli capita qualcosa di particolarmente pregiato potrebbe trovarsi anche in difficoltà sia per i pezzi di ricambio sia perché non ha le schede tecniche o non l'ha mai fatto quindi più è esclusivo particolare il calibro e più difficile è la manutenzione ordinaria presso gli amici orologiai di paese locali diciamo così ma però questo ognuno deve decidere per sé cosa fare l'amico ha deciso e io decido io se voglio un coassiale compro il coassiale sapendo che poi dovrò fare certi passi per la revisione oppure ma anche per esempio nel brightling cronomat che ho preso io del gmt che c'è letta letta 28 93 non è che lo portano dall'orologio 99 su 100 troverò un sistema per farlo revisionare da o dalla casa madre o da una gioielleria certificata dalla casa madre cioè non è che lo porto così in giro a scodinzolare prossimo video ciao davide sono dalla sicilia ti presento la mia raccolta di orologi bravo intanto abbiamo la ferrari di charles clore del 2021 quella che non andava niente praticamente quella che andava piano piano è vero è sì direi di sì va bene dai proseguiamo inizio con il più vecchio che mi hanno regalato cos'è questo torque un marchio che andava qualche anno fa un orologio veramente fatto male ma guarda lì che brutto quarzo pesantissimo 47 mm un ciofecchino di quelli insomma un diverone con la ghiera 5 atmosfere poi c'è la bandiera italiana lì sulla sulla destra solo la batteria dentro ma raramente ho visto cose peggiori e se lo merita tutto però lo tengo insomma così come ricordo ma certo e come monito soprattutto monito altro orologio braille style di dubbio gusto fu il regalo di crazy ma l'ho indossato tanto in realtà negli anni passati cronografo col datario allora c'è il contattore tondo il contattore simil quadrangolare ad ore 9 e il contattore fatto con i triangoli ad ore 3 poi se non bastasse c'è il datario che è rettangolare però dentro una magnificatrice tonda qua è la fiera delle geometrie differenti poi anche le sfere hanno il triangolino sopra insomma bravi sanno come costruire un orologio questi ragazzi bravi 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 ma il cazzo però non lo uso più ovviamente insomma questa forma abbastanza particolare se vogliamo dire così ma dai non mi piace tantissimo però insomma lo tengo come ricordo ma certo poi due regali molto velocemente per la laurea questo festina cronografo quarzone carino dimenticabile poi questo ferrari bing joffek allert ferrari pilota quarzo io in quanto grande appassionato di auto e in particolare di ferrari me l'hanno regalato io in realtà lo apprezzo per carità però ovviamente non è nulla di che dal punto di vista tecnico dell'orologeria lo apprezzi perché ti stanno guardando altro orologio insomma sempre ding ma no joffek allert già lo so questo wood watch legno di noce è un regalo della mia ragazza in realtà sono stato io un po a volerlo quando ancora di orologi non capivo nulla però appunto essendo un regalo della mia ragazza lo tengo abbastanza caro ogni tanto lo indosso è un fashion watch per carità lo prendiamo per quello che è però insomma ci tengo e boh carino dai ma anche no poi ti mostro questi due bostock comandirsky questo del kgb questo con il suo bel sommergibile oddio tanto rispetto per gli orologi russi che hanno fatto la storia che sono anche validi ma come sono kitsch loro lo sono in pochia cioè riescono a mettere sui quadranti le cose più disparate e possibili kgb cioè sembra quasi il souvenir hai capito cioè sembra quasi che vogliono costruire dei quadranti per dire dai tanto al compratore compratore occidentale gli piacciono queste cose così che vi ricordano l'unione sovietica no il comunismo il lato oscuro del kgb ce le mettono e te compri e fai la collezione cioè preferisco quelli sobri un po più sobri diciamo la verità un dial devo dire molto carino questi comprati direttamente a mosca circa 20 anni fa come souvenir li ho ritrovati nel cassetto detto to 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 insomma me li sono ritrovati li tengo ogni tanto l'indosso carini con i loro cinturini ancora originali e se erano originali al tempo però dopo di che ti mostro quest'altro regalo quando ho fatto la testimone di nozze citizen ecodrive piccoli secondi una referenza che devo dire mi piace tantissimo e non vedo non vedo in giro insomma non la vedo neanche nel canale devo dire non l'ho mai vista però un orologio molto carino 38 millimetri lo indosso molto spesso l'orologio che si vedono poco un motivo c'è andando avanti velocemente bulova con il suo bel miota dentro so che non l'apprezzi tanto però il dial devo dire che è veramente bello è un orologio che è ben fatto quanto ci sia il suo miota con il suo effetto il suo effetto ciambella però è molto solido finali pieni maglie piene h link bellissimo bellissimo e lo tengo in realtà anche questo molto caro lo indosso tantissimo a molte parti lucide che si graffiano solo a guardarle ci tengo molto perché me l'ha regalato la mia ragazza questo quando le ho chiesto di sposarmi per cui è un orologio a cui tengo veramente tantissimo e lo indosso tanto seppur dal punto di vista tecnico ovviamente sappiamo che non è tantissima roba cos'è color watch ma cos'è questo è un micro brand di creato da un orologiaio del mio paese provincia di caltanissetta lui creò questo brand tantissimi anni fa quando aveva l'orologeria gioielleria faceva fare questi orologi in svizzera infatti sono swiss made questo in particolare un quarzo 20 atmosfere coronavite fondella vite tutto in acciaio inossidabile trizio è un orologio che metto devo dire spesso ma sì e sono orologi da catalogo no e sicilia prendeva il catalogo di queste private label che sono svizzera questo qua mi ci metti sopra questo marchio qua me ne fai 200 per favore tra li mandano ti negozio quando passano gli avventori gli avventori e li vedi ecco qua c'è questo qua il mio marchio fai il margine e vai avanti così c'è niente di che l'unica cosa interessante è che giusto t swiss made t sono altrizio quando invecchia è bello è bello a vedersi però dovrebbe essere bello anche l'orologio cosa che non è cioè l'orologio a catalogo dai la mierino alla sua doppia chiusura ha anche la micro regolazione per cui devo dire che abbastanza ben fatto altro orologio sempre del micro brand di cui ti sto parlando è questo questo è molto elegante placato oro non so quale sia il calibro che monta non so se tu magari vedendolo riesce a riconoscerlo e sembra un età 28 24 normale standard cioè anche perché sembra quello mi sembra la racchetta di regolazione c'è una vite sul rotore sembra 28 24 questo in cinque atmosfere il fondello è a vite la pressione la carica sia automatica ma anche manuale 25 rubini lo metto nelle occasioni più elegante me l'ha regalato lui quindi ci tengo molto lui era un carissimo amico di mio nonno per cui c'è un bel rapporto lui ad oggi ha 90 anni per cui insomma ci tengo un bel ricordo sempre lui mi ha regalato questo will frere orologio da tasca ancora con il non è stato mai diciamo indossato per cui tutte le patch originali anche questa non so dirti in realtà l'anno swiss made però so insomma ho studiato un po la storia della ville frere dopo che me l'ha regalato una storia molto bella la ville frere praticamente l'erede della roscov roscov è colui che diciamo arrivato un po il mondo dell'orologeria fondò nel 1835 la sua azienda presentò questo orologio nel 1867 ebbe un grande successo per i suoi diciamo costi ridotti tanto che breghè cominciò a ordinare gli orologi anche dalla roscov e montavano appunto il calibro che era cosiddetto credo insomma scappamento roscov capigliere e se gli orologi si diffusero tantissimo anche tra i ferrovieri nell'esercito cedette la roscov ai fratelli vill charles e eugene vill che erano i nipoti della moglie si sono trovati l'eredità proprio in segno di così ringraziamento vuole cedere ai suoi nipoti l'azienda che diventò la ville frere per cui diciamo è un bellissimo pezzo di orologeria a mio avviso certo bella bella storia altro pezzo vintage che ti mostro questo coresa del 1950 cronografo la coresa è un'azienda che è morta con la crisi del quarzo svizzera swiss made in particolare questo monta un landeron 51 bello meraviglioso purtroppo non funzionante devo dire la verità bello è vedere tutti questi ingrenaggini aggeggi pezzettini di ferro e poi non funziona la delusione e allora di qua stiamo a parlare meglio un quarzo no di uno dice meglio no non è meglio un quarzo a batteria no ma di batteria non ce n'è ma tutti i pezzettini de ferro che vanno cercare di sistemarlo almeno una pulitina la cassa cioè se ci tieni è cioè vederlo così è messo male cerca di sistemarlo se non è inutile che lo tieni lì così come soprammobile come fermacarte lo faccio sistemare anche perché per sistemarlo è in oro 18 carati penso bisognerebbe cambiare anche il quadrante no preferisco tenerlo così come ricordo per com'è basta boh magnetico non so se era di mio nonno di mio bisnonno addirittura e allora devi farlo sistemare altro orologino che dimostro vintage risale agli anni 80 è questo braille al quarzo mamma mia ambulanza vedi il bastone di asclepio perché è un regalo di laurea di mio padre che è un medico qui c'è la scala per misurare pulsazioni che si ripete anche dall'altro lato come avevi spiegato in qualche altro video appunto perché anch'io sono un medico quando bisogna misurare pulsazioni non potevi chiaramente aspettare che la lancetta fosse qui per cui o dai 30 o dai 60 potevi misurare le pulsazioni del paziente è un placato oro lo teniamo insomma come ricordo è abbastanza rovinato è stato abbastanza utilizzato va bene è particolare ma è un bello orologio non ce l'hai ultimo questo niente altro orologio da tasca belville con la sua catenina originale in oro anche belville è un'azienda che è morta con la crisi del quarzo azienda svizzera questo è un piccoli secondi devo dire veramente elegantissimo in oro stupendo regalo di laurea questo anche il suo bel certificato 1960 orologio storico modello taschino saponetta 17 rubini carica manuale con inca block va bene devo dire veramente stupendo mi dispiace se mi sono dilungato un po' grazie mille davide a te quello che fai per il canale sei eccezionale continua così love 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 insomma è però alla fine a fine a fine stringere stringere spremere spremere e non è venuto fuori niente cosa cosa c'è rimasto cioè orologi di case morte orologi non funzionanti orologi di dubbio di dubbio gusto insomma è una collezione un po così e così è lascia un po il tempo che trova tra braille dimenticabili e orologi con un bel calibro ma non funzionanti qua non se ne è cavato un ragno dal buco va bene contento te contenti tutti io ti rimanderei anche a settembre magari con un orologino un po decente da farci vedere a settembre a settembre ciao mi chiamo ciao roberto una collezione che mi vorrebbe piacere mostrarti partiamo da questo stai per morire ragazzi c'è voce voce che è un tazzo nuvolari eberdart in oro mamma mia che bello top top quello lì lo vorrei proprio quest'altro parerai dopo 45 millimetri ma non è neanche la più grosse che ora adoro questo orologio perché è grande ma nel mio corso sta bene poi pesa poco e poi no quasi non si sente però fa piacere indossarlo e poi questo fondo cassa trasparente è semplicemente stupendo sono molto più infantile ma queste cose mi fanno passire ragazzi ufficialmente io vi sto dicendo che sto cominciando a pensare di acquistare un panerai in futuro nel prossimo futuro a breve cioè è uno dei papa diventato uno dei papabili sto ancora studiando le varie referenze le varie casse vari calibri per cercare di capire qual è più quello più adatto a me quello che mi piace di più per adesso penso che c'è mi piace anche il submersible mi piace da 42 addirittura ora so che butterete tutti no il panerai deve essere da 45 da 47 da 59 se a me piace da 42 lo posso prendere anche da 42 non è un problema no non è un problema per voi contento io contenti tutti questo glycine che è il più grosso il motivo per cui compro gli orologi perché mi piacciono le finiture mi piace la storia un po che c'è dietro questa non so se mi hanno un po turlupinato però me l'hanno venduto come se come orologio dei sommergibilisti americani non faccio fatica però neanche credo ci va ma 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 come si legge questo sono sicuro che ti piace è uno speed master bellissimo anche questo a ciò che mi fa impazzire cioè il fondo cassa trasparente bello assai l'orologio che forse indosso più di tutto questo top gmt master 2 è il secondo che prendo uguale perché il primo me l'hanno rubato durante una rapina in casa gonfia poi abbiamo questo che è stato il mio primo rolex che è un date acciaio oro 34 leggerissimo bello mi risulta che i numeri romani non ti piacciono molto però in questo caso è tra legge bilissime con questo fondo bianco perfetto porcellanato e semplicemente i numeri romani non mi piacciono molto perché mi danno l'idea mi associo i numeri romani ai pataconi fashion watch che si vedono nelle profumerie no è quello quando vedi un orologio tutto il plasticoso barocco con i numeri romani per fartelo sembrare ho sempre avuto questa percezione però ci sono orologi nei quali i numeri romani sono perfetti quello lì sono perfetti nel santos sono perfetti nel cartier tank sono perfetti ci sono modelli che sono perfetti per esempio nel wimbledon del digest quello quadrante verde gli indici che vanno per cavoli loro no lì non è perfetto come non mi piace in altri modelli 80 per cento delle volte non mi non mi piacciono i numeri romani però non è che sono da escludere a priori questo è un day just di mia moglie carino vini e questa lavorazione nel quadrante e tutte queste scritte rolex incrociate che io semplicemente darei un premio particolare al design poi abbiamo questo frank miller corex bello master complication sequela che non servono a niente che mi metto molto molto volentieri perché quasi non si sente ma allo stesso tempo ti dà soddisfazione quest'altro che sempre che è un roster cartier d'oro cartier ora cartier pensa agli orologi cartier e associ subito il nome con i numeri romani cioè è proprio una è quasi indissolubile la cosa no qualsiasi modello sia ti vengono in mente i numeri romani e la sua peculiarità bello 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 e poi l'ultimo diciamo della serie principale di orologi che questo diverso che metto alle grandi occasioni quello che però amo di più è questo omega che è quello del mio babbo che è topino ho fatto ristrutturare ristrutturare non omega la fibbia omega perché un po si erano persi negli anni di lavorazioni di riparazioni eccetera poi ho diciamo cose gli acquisti fatti così al volo passando ti piace anche come è esposta una bancarella questo mi piaceva la porcellana con cui oppure il fondo porcellanato con cui ho fatto il quadrante meraviglioso per come luccicava il sole e qua c'ho una serie di robe che forse meglio che non ti faccio vedere in cui ti faccio vedere questo che ho comprato a sydney nelle olimpiadi purtroppo mi si è rovinato il cinturino a forza di usarlo qui dentro c'erano tutte le date delle varie olimpiadi avevo anche quello dell'olimpiadi di eterne ma come sopra fa parte di ciò che mi hanno rubato in casa spero che ti sia piaciuta la mia collezione auguro di vedermi sul video e comunque guarderò i tuoi video sempre grazie perché grazie a te se divertente qualche volta non sono d'accordo con te va beh ma fa parte della vita e comunque credo che l'unica cosa su cui possiamo essere totalmente d'accordo e la passione per gli orologi che è veramente contagiosa ciao grazie ciao grazie a te grazie intanto ho visto le scatole che sono come quelle che c'ho io quelle marroni con i cuscini morbidosi marroni sono le migliori scatole che ci sono porta orologi secondo me poi la collezione dei tuoi orologi è diciamo spettacolare dai mi lancio mi sbilancio ma cosa ne frega non ci sono pezzi da 100 mila euro ma è spettacolare ci sono tutti quegli orologi che uno vorrebbe avere in collezione da da gg lecutre al submariner allo speed master il frank muller che si dice master of complication dietro e mi è venuto in mente assieme alle complicazioni quelle che non servono a niente quella che va a cercare il numero a caso le ore le ore pazze no poi tutti e tutti e ben gli orologi dai non so cosa dirti a parte quelli che hai inquadrato alla fine che ho visto che c'è o mi è venuto un mezzo brivido di paura però va bene così dai complimenti viva la passione per gli orologi e avanti così ciao davide ciao mattia da brescia mattia farvi vedere il mio accumulo di orologi ma certo partiamo con l'orologio che mi ha fatto appassionare da da bambino vedendo sul polso di mio padre questo qui è un seiko cronograph a batteria qui io ho tanta paura ad aprirlo perché non aveva alcuna cura di questo orologio come si vede dal vetro e tutto e quindi dentro penso che troverò un bellissimo macello comunque il mio primo acquisto autonomo ponderato di un orologio è stato questo emilton kaki che mi ha accompagnato per tantissimi bellissimi anni semplice orologio veramente per per molto tempo orologio che che mi ha dato tante soddisfazioni soddisfazioni poi diciamo vuoi un po per lo spessore vuoi un po perché un orologio molto molto classico mi ha anche un po stufato invece bobello negli anni infatti dopo di lui è arrivato questo stupendo omega 100 questo qui è la referenza quella diciamo precedente alla tua uno dei dei pochi che hanno fatto col diciamo col dial chiamiamolo tinta unita senza le classiche senza le classiche ondine anche lui fresco di revisione e questo è un orologio che anche lui mi ha accompagnato per diversi anni prima di fare altri acquisti in realtà la scimmia già ce l'avevo ma mancava l'argento dopo questo ho avuto l'occasione in un periodo in cui non se rifilava non se rifilava nessuno di prendere questo si dweller modello meno diciamo con non meno conosciuto meno considerato rispetto al più classico submariner certo però che comunque regala un un sacco di di soddisfazione soddisfazione che comunque ha la sua storia ha le sue caratteristiche tecniche graffiato watch vero e proprio io poi gli orologi li vedrete sono tutti belli tutti belli usati questo qui lo porta al mare senza problemi il simaster è peggio ancora quindi diciamo meno male devo dire meno male meno male che è tutto graffiato la ghiera tutta graffiata che li usi non si possono vedere quelli che ce li hanno anche anche questo o addirittura che meno costosi di questo come ricordo uno degli ultimi video c'era quello di genova l'amico di genova che faceva e poi alla fine ci aveva pagani design e questi qua per andare al mare mi minchia ma ci passi ore e ore al mare no vivi in quel momento che sei al mare vivi e vorrai vivere la tua vita con qualcosa che ti dà soddisfazione al polso e lui lo fa ci si mette il suo bel submariner e va al mare col si dweller e va al mare col si dweller l'altro c'era tutti gli orologi e poi ci mette pagani design giro a fare il pagani design pagani design non è che non è che il distruggo apposta ma diciamo che gli faccio far la loro la loro storia dopo questo qui mi ha appunto mi accappato un po' la scimmia di togliermi qualche sfizio di vario orologico visto degli anni ho deciso di regalarmi questo stupendo rolex mili gauss vi dico che anche il mili gauss che ho sempre denigrato ho fatto anche un video dove lo prendevo in giro perché c'erano i mille mille gauss quando gli omega c'erano 15 mila no per dire e comincia a piacermi anche il mili gauss ma ora che fuori produzione comincia a piacermi anche il mili gauss sarà vecchiaia ma questo qua è una referenza del 2000 del 2016 quella appunto con il caratteristico vetro verde e il dial blu che è diciamo quello che si vede un attimino meno anche questo non è il modello di rolex vedete tutti i segni di diciamo di utilizzo belli presenti anche questo diciamo non è un rolex dei più blasonati ma è uno di quelli che mi ha sempre mi ha sempre appassionato perché comunque adesso qui non rende molto ma il il vetro proprio verde ha una resa che è stupenda forse ancora più del del dial blu dopo questo qui ho fatto un acquisto meno ponderato un po mi sono pentito infatti dovrò metterlo in vendita perché è un orologio questo topino che comunque usato molto classico e che comunque ha delle finiture veramente di pregio quindi nulla da dire sull'orologio è proprio il genere che probabilmente mi ha un po è carico il bariletto della sveglia è proprio il genere che probabilmente non è alla fine nei miei gusti però finché non lo metti al polso non lo porti un po eccetera non non puoi saperlo infatti questo adesso penso sarà il primo a lasciare il primo orologio che viene capita 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 anche a me dopo questo purtroppo ne ho ereditati due e purtroppo perché è ovviamente quando si ereditano non è per un per motivi allegri che è questo rolex oyster allora questo qua in realtà mio suocero l'ha lasciato per il per suo nipote per mio figlio adesso mio figlio ha cinque anni quindi magari dargli un oyster così per imparare a leggere allora penso sia un po penso sia un po sprecato ecco qui l'unica cosa attenzione a chi date gli orologi a revisionare qui c'è stato proprio un cane infatti se vedete ora è una è riuscito a graffiarmi il dial come ha fatto come non ha fatto non lo so ovviamente non è colpa mia non è colpa sua non è colpa di nessuno secondo lui è fine della storia tanto alla fine rimane a me l'orologio così mica lui insieme a questo mio suocero aveva anche questo stupendo ebera che gli è stato regalato per per la comunione è un full gold la cosa più più bella il cinturino originale questo lui è un orologio che ha preso ha messo nel cassetto e finita lì ancora la sua corona originale cioè questo orologio qui è bello è praticamente nos alla fine ha fatto appena appena un po di patina sulle lancette perché ho cominciato a usarlo io e poi c'è un orologio del giorno ovvero il mio ultimo acchiappo che è un acchiappone perché l'omega speed master professional come lo chiamano lo snoopy one o snoopy uno l'edizione limitata e la prima edizione limitata penso che abbiamo fatto appunto riguardo a snoopy riguardo a il discorso dell'apollo ed eccolo qui anche lui dopo tanti tanti anni tanti ripensamenti tanti sacrifici sono riuscito a fare l'acchiappone questo a dire la verità è l'orologio che veramente mi emoziona di più è uno speed master normalissimo con l'iconcina di snoopy però insomma come tutte le cose si desiderano per tanti anni poi quando arriva arriva bravo la domanda che ti volevo fare era sul movimento di questo che ne so milgauss che incassa ovviamente il movimento rolex 31 31 che è dedicato al milgauss e poi successivamente è stato spostato sul sul larking quello che ti volevo chiedere siccome rolex non mi ricordo se prima del 2016 del 2008 e per il discorso della certificazione cronometrica dava più o meno 6 secondi e poi è stato spostato a più o meno due il movimento dovrebbe essere rimasto diciamo sempre sempre uguale ma e a quanto ha detto in internet cambiando la lubrificazione sono riusciti a a guadagnare questi quattro secondi di scarto secondo te hanno fatto anche delle modifiche sul calibro oppure solo sono riusciti cambiando lubrificanti a ea ottenere delle performance migliori niente tutto qui grazie mille del tempo che mi ha dedicato e love grazie grazie a te per avermi dato il video domanda da tecnico da orologiaio da espertone quale io non sono e non so dirti non sapevo neppure di questa di questo cambiamento a un certo punto dai più 4 meno 4 sicuramente rolex è una di quelle case che i calibri sono certificati dal cosco ma loro poi controllano e regolano l'orologio una volta incassato e per cui va meno 2 più 2 te lo danno a meno 2 più 2 hai capito è quel punto poi discorso alla base che c'è la base dei lubrificanti delle modifiche di quello che non ne ho la più pallida idea mi guarda proprio non lo so chiedi a qualcuno di più espertone perché io no belli orologi tutti belli complimenti complimenti lo speed master lì lo snoopy bello anche quello io mi sto stufando un pochino dello speed master devo essere sincero l'ho indossato poco e mi sto stufando a vederlo probabilmente non mi convince al cento per cento le proporzioni dell'orologio nel 42 non è che tanto però è più largo che 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 il di lag to lag è un pochino un po fuori proporzione c'erò lì va vedremo comunque complimenti per gli orologiaci bravo bravo ciao davide ciao sono alessandro da tenerife ora ti voglio presentare la mia piccola collezione vai partiamo con questa batteria citizen ecodrive super titanio radio controllato 100 metri acquistato circa due anni fa un broglio quando l'acquista mi piaceva molto il quadrante il fatto che pesasse veramente poco perché ha un peso di 78 79 grammi e questo mi attirava molto però onestamente tornando indietro non rispenderei quello che ho speso per un citizen secondo l'orologio quello che attualmente porto da un anno ininterrottamente cos'è cos'è classico prx automatico a mio avviso bellissimo esteticamente comodissimo un filino pesante però non niente di che vivendo a tenerife il mare pressoché quotidiano e posso dire che l'acqua nonostante sia solo un 100 metri la tiene fantasticamente 100 metri bastano per io ci faccio il bagno con i 100 metri tutti ci fanno il bagno con i 100 metri ci può fare anche tuffi con i 100 metri cioè che problema c'è senza esagerare fare delle super immersioni dei super tuffi tutto super però 100 metri va benissimo bellissimo bellissimo ultimo orologio ha già un pochino vintage questo rudolf by long jean rodo metà anni 90 circa era di mio padre traccato oro 38 mm monta un valgiu 77 50 che dirà avuto una vita un po sfigata questo orologio perché mio padre penso che l'abbia indossato tre volte io idem e insomma ha vissuto dentro un cassetto piccola curiosità appunto il nome rudolf by long jean rodo perché tra la fine degli anni 80 all'inizio degli anni 90 vi era questo designer il long jean che si chiamava appunto rudolf ora il cognome non me lo ricordo il quale disegnò diverse linee di orologi sia da uomo che da donna e questi long jean appunto venivano chiamati rudolf by long jean questa cosa mi mi urta un po perché onestamente vedere scritto il nome di chi ha disegnato l'orologio dentro la cassa non mi piace tanto però insomma penso che passerà altri 30 anni dentro il cassetto poverino lo tengo per un ricordo che dire niente la mia collezione finisce qua un saluto a tutti ciao 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 tre orologi messi in croce un prx un citizen imbroglion e un rodolfo dimenticabile sì in effetti la scritta rodolf by long jean su quadrante è veramente brutta da guardarsi era un designer ha fatto tutta una serie di orologi così rodolf by long jean e poi ha anche aperto un brand tutto proprio che però attualmente non esiste più non esiste più fuoco di paglia ora guardavo appunto quel long jean lì con i numeri romani che non non ci non ci accercano niente non mi piacciono ecco un orologio con i numeri romani che non mi piace quel rodolf by long jean poi c'era tutta la placatura lungo la lunetta che era scomparsa stava andando via non si gli orologi placati e questo il brutto c'è anche oltre a essere finti fintoni hanno anche il fatto che poi nel tempo la placatura va via e allora dopo sa veramente di di non di usurato vintage bello a vedersi ma di usurato chip hai capito economico di finto è quello il problema comunque tre orologi che se un signorone con tre orologi vai dove vuoi a mamma mia uno non rimane il cassetto quell'altro se torni dietro non l'avresti comprato il prx cioè solo il prx a tenerife ci fa il bagno però siete le rife però siete le rife va bene dai sei rimanato a settembre vieni con qualcosa di più ciccia più ciccia boh ragazzi mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero vi siano piaciuti i video del presentatore l'orologio del giorno e l'orologio del giorno di ieri non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love grazie a tutti Grazie a tutti.